Siamo giunti all'ultima, una quattro anni sul medio, non cuore Zeta, Crilla, aveva il numero 11, ne rimangono in 11, 2 euro per il momento Zolder, si rivede con piacere Tony Tony, Tony Tony, Tony Young, in salchi. Mezzo meccanico in movimento, buono l'allineamento, via la macchina. Zower dal centro, facile, nei confronti di Zina Lorell del Sile, poi l'uno di Zac Riegal rientra, Zacintos, che punterà probabilmente in avanti. 13, 3 a partire per lo SM di Vincenzo D'Alessandro Junior, ma sposta prima Zina Lorell del Sile con Enrico Antonio Maisto e ci sarà un classico freeway 29, 2, 400, mentre è venuto via anche il 4 di Zorba Griff in anticipo sugli altri. Si libera Tony Young con il suo Zolder AS per prendere la scia di Zorba. 42, 9 addirittura, da 1, 11 e mezzo. E cavalli che affrontano la penultima curva, con l'alivo di Maisto al comando. Ci va al completamento del mezzo miglio in 58, 2, 15, 3 di frazione. I cavalli affrontano il penultimo rettilineo con Zinna Lorell del Sile in chiaro vantaggio. Completa un chilometro, ale, 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 ma molto ale, 1, 13 e 1, viene via Zolder. E Zolder AS si trascina, Zinial. Zolder è incisivo, agguanta Ginne del Sile, 14, 9, 1, 28, 3 quarti di miglio, lo segue come un'ombra o quasi Zinial. E Zinial è spettatore interessato, Peppino Maisto ci crede, ci prova, ci prova e ci crede Maisto. E come ci prova e ci crede? Corre poco, ma fa vedere sempre come si guida. Viene via la grande Zack Riegel e anche il 12 di Zepal Firm. Zinial, secondo il numero 1 Zack Real. E terzo, fotografia, probabilmente il 12, ma chiediamo la foto assoluta. 1, 58, 7, 1, 14, 2, 11, 64. Corre poco, corre poco perché ha avuto un problema al braccio, ma quando corre, signori, si fa vedere e fa vedere come si guida. Questo è Peppino Maisto, detto Blue Jeans. Grazie per l'attenzione, saluto allo studio centrale, sempre autore per noi e collaboratori speciali, da Napoli, Emilio. Giovedì prossimo, col caldo che fa, stessa spiaggia, stesso mare. Linea allo studio, terzo e il 12, eh? Grazie per l'attenzione, saluto allo studio,